Tieni, ti ho fatto un disegno. È quando voli. È bellissimo il tuo disegno, Titi. È proprio così. Ma Leo, perché io non posso vederti quando voli? Non c'è nessuna persona che può vedermi, per questo è un segreto. Buonasera, signor sindaco. Sono colui che ha lanciato su internet un virus informatico particolarmente tenibile. Ma con un miliardo di dollari, lei può fermare tutto. Questa è New York. Non ci lasceremo certo impressionare da un pazzo. Mary, è pericoloso. Davanti a me un vero poliziotto di New York, forte. Io posso aiutarla, lo vedrà. Ricapitoliamo. Ti siedi, chiudi gli occhi e non ti muovi più. Davvero un fantastico piano. Ecco, la vedo. Non sai anche cosa sta facendo adesso. Levati dai piedi, brutto cagnaccio. Leo, se questo è vero, bisogna che scappi subito. Ma non può sentire. Uno sbirro a rotelle. Sei brutti, di sott'ora mi sono beccato. Quel sacco di pulcì è peggio di una squadra. Forza, abbiamo bisogno del tuo fantasma, Leo. Forza! Zitto, non è il caso di agitarsi. Ti avverto, sto per esaurire la pazienza. Mi chiamo Leo. Ho undici anni e ho un segreto. Sono un eroe.